Cari spettatori, siamo ancora per la quarta puntata con il regista Paolo Benvenuti e che ci parlerà nell'occasione del suo quarto film, che in realtà è il terzo. Perché Paolo? Perché è successo che un mio amico e collaboratore era appassionato di cavalli, per cui era andato a comprarsi un cavallo in Maremma, un cavallo maremmano. Tornato dalla Maremma con questo bellissimo cavallo nero, ha portato con sé una fotografia che aveva trovato in Maremma, questa fotografia qua. E mi dice, sai, questo signore qua in realtà è morto, è legato a una colonna, ma è un cadavere. E per tenerli aperti gli occhi gli hanno infilato degli steccolini per tenerli aperti gli occhi. E il cappello ce l'ha in questo modo perché li copre la calotta cranica che è stata sfondata da un colpo alla nuca che gli hanno sparato. E io dico, ma chi è questo? E questo è il famoso brigante Tiburzi. Io non sapevo niente di questo personaggio. E gli dice, ma porca miseria, ma questa fotografia sembra quasi un Cristo morto, sembra un personaggio, sembra Babbo Natale ammazzato. Ma aveva fatto una grandissima impressione questa fotografia. E vuole sapere tutto di chi era questo Tiburzi. Allora lui mi fece avere un libriccino che raccontava la storia più o meno di questo personaggio. E la cosa mi ha affascinato. E mi ha detto, guarda, se non conosci la Maremma la devi conoscere. Se vuoi un giorno partiamo e andiamo a Maremma, devo comprare un cavallo così vedi anche questi posti. E partiamo, andiamo a Maremma. La Maremma che lui mi fa visita, per me la Maremma era il parco dell'uccellina, era una cosa tranquilla, con pianura, eccetera. No, a me non mi porta in una specie di canyon in mezzo a delle boscaglie impenetrabili. Cioè in un posto, sembrava ad essere nell'Africa, in posti veramente fuori da quello che uno immagina il paesaggio italiano. Con questi canaloni che sembrano i canyon, con queste cascate, cose, posti straordinari. Cioè è vero, questo era il regno di Tiburzi. Tiburzi ha vissuto per trent'anni in questi boschi ed era il brigante più importante di tutta la Maremma. Caso volle, che io dissi, siccome ho letto questo libricino su Tiburzi, mi disse ma questo qui che ha scritto, l'autore di questo libretto si chiama Alfio Cavoli, ma questo è Alfio Cavoli, è vivo, è sempre vivo. Sì, 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 guarda, è un signore che abita qui in Maremma. Insomma mi piacerebbe conoscere perché il libro che ho letto era carino, simpatico. Mi piacerebbe incontrare. Sì, vado da questo Alfio Cavoli, insieme a questo mio amico, mio amico si chiamava Antonio Masoni, insieme a Antonio andiamo a trovare questo Alfio Cavoli, il quale quando sente che io ero un regista e che mi ero appassionato della figura di Tiburzi, su cui aveva lavorato tutta la vita, aveva scritto decine di libri sulla storia di questo brigante, aveva fotografie, aveva materiale, aveva un sacco di materiale interessanti, documenti, eccetera. E io dissi, ma sarebbe interessante approfondire. Sì, guarda, sarebbe interessantissimo perché il prossimo anno, era il 95 questo, il 96 è il centenario della morte di Tiburzi. Per cui se si fa il giro di tutti i comuni qui della Maremma che hanno visto Tiburzi come protagonista, che è una specie di Garibaldi della Maremma, c'è caso che si trovi anche qualche ente, istituzione, comune che possa collaborare all'idea. Questa cosa del film l'aveva riempito d'entusiasmo questo storico locale. E dicevo, tra l'altro, questa fotografia che io mi portavo sempre dietro, questa fotografia era una fotografia comunissima che la gente ce l'ha in casa, addirittura, in certe case, c'è addirittura attaccata al muro con il lumino sotto, come se fosse un santo. Ma dico, ma perché tutta questa, qual era la fama di questo personaggio? Eh, dice, perché era chiamato il livellatore, cioè lui rubava ricchi e distribuiva la ricchezza fra i poveri. Siccome la Maremma era poverissima, per la gente che moriva di fame, uno che rapiva i ricchi, si faceva dare riscatto e poi distribuiva soldi. E dico, sta storia mi somiglia molto a quella di Salvatore Giuliano che faceva più o meno la stessa roba. Per cui c'erano delle assonanze strane che mi affascinavano. Abbiamo fatto poi il giro dei comuni dell'area della Maremma, laziale, perché tutto questo accadeva nella Maremma laziale, non nella Maremma toscana. Tutti i sindaci della zona erano entusiasti all'idea di poter collaborare e contribuire all'ipotesi di un film su Tiburzi. E poi mi portano in giro a vedere i posti. Per cui io faccio avanti e indietro Pisa Maremma perché volevo conoscere questi ambienti, questi paesi che erano rimasti anche un po' indietro nella storia. Per cui si diffonde la voce per tutta la Maremma che un regista vuol fare un film su Tiburzi. Questa è la storia. Che anno era? 1995. Per cui io sono tornato da questo Alfio Cavoli e il quale ho detto guarda io però ho bisogno di essere documentato in maniera seria. Non è che i tuoi libretti un po' romanzati mi possono fare dal supporto. Io voglio fare una ricerca come faccio sempre. E allora lui mi ha detto guarda un mio carissimo amico storico pure lui che abita nel paese qui vicino si chiama Aldo Morelli e insieme possiamo lavorare per cercare della documentazione interessante che ti può interessare. Per cui si comincia una ricerca sia nell'archivio di Stato di Viterbo che nell'archivio di Stato di Grosseto per cercare tutto quello che si può trovare su questa storia. E si raccoglie parecchio materiale. A un certo punto io mi rendo conto che molto materiale è anche nell'archivio centrale dell'Arma dei Carabinieri di Roma per cui vado anche a Roma. E a Roma ho un colpo di culo incredibile perché trovo il diario del Capitano dei Carabinieri che era stato incaricato di allestare Tiburzi che poi non ce la fa perché prima di lui arrivano degli altri e lo ammazzano. Però i rapporti di questo Capitano Capitano Giaccheri che scriveva sulle sue ricerche su Tiburzi erano straordinariamente interessanti perché questo Capitano Giaccheri aveva fatto esperienza contro il brigantaggio in Calabria per cui aveva capito in Calabria che molti dei briganti calabresi in realtà erano pressolati nel senso che erano pagati dai proprietari terrieri per cui erano come dire dei guardiani che controllavano il territorio per conto dei proprietari terrieri. Vuoi vedere che anche Tiburzi aveva un carattere analogo e infatti scoprono proprio questo che Tiburzi in realtà cioè che l'inizio, la prima parte della vita di Tiburzi era fatta appunto di rapimenti di proprietari terrieri si faceva dare riscatto che poi distribuiva in qualche modo questa ricchezza tra i poveri. Però da un certo punto di vista da un certo momento storico in poi questi rapimenti cessano improvvisamente. Come mai sono cessati questi rapimenti? Perché a quel punto i proprietari terrieri che erano proprietari terrieri ricchissimi tra l'altro uno era il principe Corzini l'altro era il marchese Guglielmi che occupava il lato nord della Maremma laziale il principe Corzini il lato sud della Maremma toscana per cui le due grandi proprietà terriere erano confinanti. si rendono conto che Tiburzi tiene sotto controllo il territorio che non ci fa entrare nessun altro brigante per cui convincono Tiburzi di accettare la paghetta una paga per tenere sotto controllo il territorio e Tiburzi teneva sotto controllo il territorio ma non solo faceva questo ma aveva fatto un'altra cosa molto importante e cioè era successo che dopo l'unità d'Italia anzi prima dell'unità d'Italia c'era in vigore una legge non scritta in tutti i paesi in tutti i paesi preunitari tipo il regno di Napoli il regno delle due Sicilia appunto il Gran Ducato di Toscana c'erano delle leggi non scritte che si chiamano convenzioni che stabilivano che le popolazioni più povere avevano la possibilità di fare il legnatico di andare a raccogliere la legna nei boschi di pescare nei ruscelli di fare la spigolatura cioè dopo il grano andare a raccogliere cioè c'era tutta una serie di facilitazioni per consentire ai contadini e alla gente più povera di sostenersi queste leggi queste convenzioni con l'unità d'Italia furono proibite improvvisamente e furono ma anche affissi dei manifesti per cui non era più possibile cioè che bisognava avere permessi specifici per poter fare queste cose non si poteva più fare liberamente come prima questa raccolta di cibo questo arrangiarsi non si poteva più fare secondo le nuove leggi piemontesi bisogna sottostare a una burocrazia particolare per poter avere questi permessi e avevano messo anche dei manifesti i piemontesi per avvertire la popolazione che le cose erano cambiate diciamo le truppe occupate diciamo le truppe i piemontesi siamo negli anni 60-70 per cui siamo nel periodo del passaggio dagli stati preunitari alle unità d'Italia c'era già stata la breccia di Portapia per cui è già stato vaticano era scomparso anche lì Roma era stata occupata la capitale d'Italia cosa succede? che siccome il 95% della popolazione era analfabeta nessuno leggeva questi manifesti e la gente tranquillamente continuava a fare quello che aveva sempre fatto per secoli Tibursi era un pastore di pecore che era andato tranquillamente nel campo fa un po' d'erba per far mangiare le proprie pecore e una guardia una guardia campestre l'aveva fermata l'aveva multato di 20 lire 20 lire tutto il suo greggio non valeva 20 lire ora un attimo tu stai parlando di quello che ho letto nei documenti ma stai parlando ora della storia di Tibursi come diventa brigante come diventa brigante tutto questo viene fuori perché su Tibursi c'erano 2000 leggende ma attraverso i documenti si è potuto ricostruire un percorso preciso della vita cosiddetta criminale di quest'uomo che cosa succedeva? succedeva che effettivamente sotto il regno di Tibursi e per questo Tibursi era portato un palmo di mano da tutti aveva mantenuto le leggi preunitarie per cui sotto Tibursi i contadini la gente povera poteva continuare a fare quello che aveva sempre fatto e se qualche carabiniere o qualche guardia pensava di fare furbo cioè di stare alle leggi lui la faceva fuori perché lui manteneva le leggi precedenti questo per la gente povera era una cosa straordinaria perché per qualche anno era stata costretta a stare attenti a fare quando era arrivata Tibursi combatteva le guardie i carabinieri per poter mantenere le sue leggi nel territorio da lui controllato questa era la storia cosa succede però? che a un certo punto questi carabinieri continuano a cercarlo perché evidentemente questo suo modo di gestire la giustizia infatti lui diceva sempre io sono io sono per la giustizia non per la legge lui faceva questa differenza tra la legge e la giustizia io sono la giustizia la legge è un'altra roba quando le guardie lo cercavano lui trovava il modo sempre di scappare solo che una volta purtroppo non fu avvertito che stavano arrivando delle guardie per arrestarlo ci fu un conflitto a fuoco il suo complice il suo grande amico che si chiama Biagini fu ucciso e lui fu ferito a un ginocchio e questa cosa lui fu andato fuori di testa e lui ammazza il fattore del Marchese Guglielmi che era il responsabile di quelli che avrebbero dovuto avvertirlo di questa cosa lì succede il fine mondo perché sia il Marchese Guglielmi che il Principe Corsini erano deputati in Parlamento del governo del governo italiano non erano due qualsiasi erano due personaggi per cui ti puoi immaginare il Marchese Guglielmi si incavola da morire perché gli aveva ammazzato il proprio fattore e interviene l'esercito per la prima volta la Maremma è occupata militarmente dall'esercito e arrestano qualcosa come 350 manutengoli di Tiburzi cioè un esercito Tiburzi non riescono a beccarlo e si dice addirittura che Tiburzi e c'è un processo chiamato il processone al Tribunale di Viterbo e Tiburzi si dice che andasse travestito ad ascoltare al Tribunale cosa dicevano di lui ma non riescono a beccarlo perché non riescono a beccarlo non riescono a beccarlo perché i proprietari terrieri che lo avevano sponsorizzato fino a quel momento lo hanno costretto a espatriare lui va in Francia e sta per qualche anno prima va a Roma poi in Francia la costa azzurra e praticamente rimane lì e fa il pensionato di lusso praticamente nella costa azzurra però si rompe i coglioni perché il Maremma è un mito un mito vivente la costa azzurra non è nessuno è un vecchietto pensionato per cui a un certo punto basta io torno a casa mia preferisco morire a casa mia ma da mito piuttosto che morire da vecchio pensionato sulla costa azzurra e torna dopo cinque anni che era scomparso torna in Maremma e ritorno in Tevulsi in Maremma crea uno scompiglio generale perché perché i proprietari terrieri hanno il terrore che si è arrestato e nel momento in cui viene arrestato lui direbbe ma io sono mantenuto per vent'anni dal principe consigli dal marchese Guglielmi che mi pagavano la paghetta e questi erano venivano sputtanati a livello nazionale essendo due figure politiche di primo piano nel Parlamento italiano quindi cosa succede? succede che si mettono d'accordo per farlo fuori e emettono una taglia su Tivulsi per cui convincono dei carabinieri prezzolati a farlo fuori prima che il capitano Giaccheri riesca il capitano Giaccheri lo voleva arrestare vivo per poterli far confessare chi erano i suoi pagatori e invece i pagatori per cui il film che cos'è alla fine? è la storia di una caccia all'uomo di due gruppi uno quello del gruppo del capitano Giaccheri il gruppo dei prezzolati che che arriverà prima ecco questo è il film anche perché sulla morte di Tivulsi c'è un mistero c'è un mistero perché nelle deposizioni dei carabinieri che avrebbero come dire partecipato al conflitto a fuoco che poi dove muore Tibulsi un carabiniere dice l'abbiamo ferito una gamba lui caduto ferito una gamba ci dice fermatevi sono Tibulsi ma avete preso sono Tibulsi se non che Tibulsi è stato trovato morto con un colpo alla nuca quindi non si doveva nemmeno prendere ferito si doveva ammazzare allora c'è chi dice che si è suicidato una volta preso prigioniero si è sparato alla testa ma lui aveva un fucile non aveva la possibilità di ferito di pigliare fucile spararsi insomma era poi nella nuca uno si suicida si suicida in bocca si suicida sotto ma non nella nuca lui è stato proprio ci manca proprio un pezzo di scatola cranica per cui chiaramente hanno sparato nella testa con una fucilata un'altra versione dice che è stato il suo compagno perché lui era insieme a un altro brigante che si chiama Fioravanti quando è successo il conflitto a fuoco che l'avesse in realtà tradito e ucciso Fioravanti che poi si era ucciso dopo qualche anno dopo sempre della forza pubblica la terza la terza la terza versione invece che sia stato ucciso nella sparatoria dai carabinieri però c'è questa discrepanza tra la deposizione del carabinieri che ci ha parlato prima che morisse per cui tutto questo è confluito poi tutta questa documentazione ripeto trovata in parte nell'archivio di Viterbo in parte nell'archivio di Grosseto in parte nell'archivio del comando generale della carabinieri a Roma è confluita nella ricostruzione di un percorso che è documentato anche qui sulla storia di questo brigante e da questo è nata la sceneggiatura del figlio di Tiburzi questa è un po' la storia la cosa divertente è che poi appunto quello storico di Montalto di Castro questo Aldo Morelli amico dell'altro che era quello che odiava e più in assoluto il principe il marchese Guglielmi quello cioè che aveva messo la taglia su Tiburzi perché lo considerava oltre che un proprietario terreno cattivo anche uno stronzo per come sarà comportato con Tiburzi per averlo fatto ammazzare io gli ho chiesto di fare interpretare nel film il marchese Guglielmi ed è stato bellissimo perché la rabbia che lui aveva nei confronti del personaggio che interpretava è espressa nella sua attorialità per cui è venuto fuori un personaggio incredibile che è questo qua di un cinismo assoluto proprio è stato geniale la cosa divertente di Tiburzi è che quando si è iniziato le riprese c'è stata una gara a livello dell'intera maremma di gente che tutti i giorni arrivava e mi portava cose per cui fucili del nonno selle di cavalli mobili dell'ottocento cioè io c'avevo i magazzini che avevo preso per metterci costumi che erano stracolmi di piatti posate antiche cioè una roba anche tutto quello che si vede nel film a livello di ricostruzione ambientale è stato tutto gratuito gratuito dalla parte della popolazione maremmana che voleva vedere nel film almeno il piatto di dove ci aveva mangiato il suo bisnonno o l'ha capito ma Tiburzi che l'altra cosa di Tiburzi è che io guardando quella famosa fotografia di cui vedo eppure mi somiglia a qualcuno a me questa fotografia a me mi ricorda qualcuno ma chi c'è mi ricorda qualcuno mi ricorda qualcuno ma chi mi ricorda ma chi mi ricorda ma chi mi ricorda ma chi mi ricordava Pietro del bacio di Giuda per cui sono andato da questo questo amico di Livorno che lui tra l'altro che aveva interpretato Pietro nel bacio di Giuda e lui ha detto senti ma saresti disposto a farmi Tiburzi nel Tiburzi e lui è subito felicissimo è venuto e mi ha fatto di buzzi per cui l'attore che fa Pietro nel bacio di Giuda è lo stesso che ha fatto i buzzi poi c'era il problema del capitano Giaccheri di cui avevamo le fotografie il vero capitano che le trovate appunto nel museo dei carabinieri di Roma e ho detto porca mia ma questo io lo conosco questo ce l'ho ce l'ho ed era quello che nel confortorio fa il notaio che all'inizio legge la sentenza dice la sentenza a uno dei due ebrei quando arriva con i due ed era lui il stessi baffi il stessi trascensore dell'apportamento eccolo qua io ti farei vedere la fotografia vera del capitano Giaccheri è identica non ce l'ho purtroppo purtroppo qui ma si può trovare il capitano Giaccheri è esattamente questo signore qua mi sono divertito a ricostruire anche fisiognomicamente i personaggi allora la cosa buffa è che quando abbiamo girato il film quando abbiamo finito abbiamo fatto una grande scena con tutta la troupe nel ristorante che ci faceva la catering che ci portava con la jeep noi eravamo in mezzo alle montagne in mezzo a canyon ci arrivava a questo con la jeep e ci portava i cestini per far mangiare la truppa a conclusione del film abbiamo deciso in questo ristorante che si chiama La Torre da Carla a Capalbio che per il finale del film si svolge a Capalbio cioè Tiburzi è stato ucciso a Capalbio per cui c'è tutta la scena finale è stata girata a Capalbio il finale del film si gira finito il film si dice si va tutta la troupe attori a cena da questo ristorante che aveva nel ristorante tutte le fotografie di Tiburzi di tutti i briganti della Maremma era uno fissato anche lui sul brigantaggio eccetera eccetera non abbiamo deciso di fare uno scherzo agli altri avventori del film a un certo punto l'attore che interpreta Tiburzi non è a cena con noi c'è tutta la troupe ma non c'è e si spinge la luce e arriva Tiburzi illuminato con un faretto entra con lo schioppo entra dentro il cronistorante e comincia a puntare il fucile la gente sbiancata poi a un certo punto si dice ecco qui ti devo fare un passo indietro in un altro episodio straordinario che è successo su questo set è che dopo qualche giorno che io stavo girando la sera che rientriamo con tutta la truppa all'albergo lì dove eravamo si presenta una signora cinquantenne e mi dice senta lei è registra benvenuti dicono sì senta io sono una cantante e ho scritto una ballata su Tiburzi la vuol sentire sì me la faccio sentire insomma era un po' così questa vediamo questa prende la chitarra e comincia a cantare io rimango sconvolto mi piace da morire perché praticamente racconta in questa ballata tutta la storia di Tiburzi ma la storia vera quella che io avevo ricostruito lei era riuscita a sapere anche lei i fatti salienti della vita di Tiburzi e la racconta in questa ballata e io gli dico senta sarebbe disponibile domattina a girare una scena e lei mi dice sì 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 volentieri però senza chitarra me la devi cantare senza chitarra allora ho chiesto alla costumista di trovargli una kappa una roba da mettere addosso l'ho messa nell'albergo dietro l'albergo c'era un poggetto lì sopra e la mattina dopo ho girato questo pezzo e dico non so cosa ci farò poi si vedrà e l'ho girato lei che canta quella contro cielo e ho girato questa scena poi quando l'ho vista mi è piaciuta andare a morire e ho detto cazzo questa scena deve essere valorizzata e ci ho fatto l'inizio del film perché in realtà il film doveva iniziare semplicemente dalla caserma dei carabinieri e invece ci ho inserito questa cosa e a quel punto mi è venuta un'altra idea e ho detto porca miseria ma questa è quasi una cosa da cantastorie si potrebbero mettere dei quadretti allora ho buttato giù degli schizzi ho chiesto a una mia amica pittrice se mi faceva dei quadretti naif sugli schizzi che io avevo preparato da metterli in alternativa sulla voce della cantante si vede la cantante poi man mano che parla si vedono dei quadretti e questa cosa è diventata l'inizio del film e mi è piaciuto tanto per un motivo molto semplice perché in qualche modo questa storia di Tiburzi questo ambiente culturale contadino mi rifaceva tornare alla memoria Amedea la mia Amedea infatti quella donna lì io l'ho fatta l'ho rappresentata come una medea in qualche modo ma la caratteristica del teatro epico era quella che fin dall'inizio tu sai come andrà a finire non c'è quello che si chiama la suspense per sapere se arriverà prima quello o prima quindi mettendo all'inizio quella ballata che racconta tutta la storia di Tiburzi fino alla morte mi serviva come rottura della suspense per cui di entrare perfettamente nell'epica che mi interessava drammaturgicamente ecco come nasce quella prima scena sì infatti aspetta la cosa più bella è quando l'ho chiesto come si chiamava questa cantante mi chiede ma lei come si chiama e lo devo scrivere Silvana Pampanini si chiamava Silvana Pampanini e non era un nome non era un nome d'arte si chiamava veramente Silvana Pampanini era un'omonima di Silvana dell'attrice infatti nel film c'è scritto con la partecipazione di Silvana Pampanini e tutti vogliono vedere dove è Silvana Pampanini e nessuno la trova e invece era la cantante io ho notato che il meccanismo della rottura della suspense per cui tu sai come va a finire crea un profondo dolore nei rapporti tra lo spettatore e il personaggio nel corso della narrazione per cui tu ma il personaggio appare alla fine il personaggio non appare questa cosa del dolore l'avevo calcolata e l'ho come dire diminuita nella sua portata drammaturgica proprio perché il personaggio non si vede per cui non c'è l'identificazione l'innamoramento nei confronti del personaggio perché il personaggio appare solo nel terzo atto e non dice una parola non parla per cui il personaggio è un mito non è nemmeno più un uomo è una figura mitica però tu senti in tutta la narrazione il principio della giustizia che si infrange perché tu sai dall'inizio che si infrange istante per istante provi questo senso di rottura certo questo sì questo senz'altro ma non dal punto di vista dell'immedesimazione che io rifugo dall'idea del rapporto di immedesimazione tra lo spettatore e il personaggio infatti nei miei film questo processo non c'è mai ma non penso che tu ci sia riuscito fino al fondo perché alla fine il personaggio quando compare l'attore te lo senti vicino perché conosce il suo progetto la sua mente non lo so io so che questa cosa della come dire dell'innamoramento del personaggio io ho cercato di portarlo fino all'ultimo e di esprimere esclusivamente sulla scena finale della fotografia che appare piano piano la fotografia questa fotografia qua con la canzone sopra Maremma Amara cioè quel pezzo lì è il pezzo della nostalgia è il pezzo dell'innamoramento è il pezzo dove il cuore esprime il proprio sentimento per cui ho cercato di rendere come dire di freddare in qualche modo tutta la relazione e di lasciare l'elemento dell'emozione sentimentale soltanto nel finale nell'inquadratura della fotografia cioè ho voluto rappresentare nell'ultima inquadratura il sentimento che ho provato io quando ho detto questo è Babbo Natale fucilato cioè quella cosa che ho provato all'inizio l'ho voluta rappresentare alla fine manca un anello del racconto che è sul finale ecco come nasce quella fotografia ti ho detto me l'ha portata al mio amico ah come nasce come nasce nella realtà no nella realtà allora gli succede una cosa molto incredibile molto particolare lui viene ucciso a Capalbio per cui il cadavere viene portato al cimitero di Capalbio e c'è un problema perché il popolo lo voleva seppellire nel cimitero di Capalbio il prete non voleva dare il permesso perché fosse seppellito in terra consacrata perché era un bandito quindi c'è stato quasi un conflitto con la gente incavolata nera perché lo voleva seppellire lì e il prete non ce lo voleva stavano per linciare il prete quindi sono arrivati a un compromesso il il capo del tribunale di Grosseto è arrivato e ha risolto il problema lo seppelliamo mezzo dentro e mezzo fuori sul cancello è stato sepolto sul cancello del cimitero la parte della testa dentro il cimitero dentro la testa della consacrata e le gambe invece fuori dalla testa consacrata questa è la cosa prima di seppellirlo naturalmente secondo i tibuzzi era famoso a livello nazionale erano arrivati tutti i fotografi arrivati giornalisti è arrivato un sacco di gente che voleva sapere come era morto e lì già si capisce che c'è subito un tentativo di depistaggio da parte dell'autorità però c'era da fotografarlo anche perché c'era una 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 regola quando veniva ammazzato un brigante prima di seppellirlo veniva fotografato legato a una scala legato a un palo e lì lo legarono a questa colonna che è ancora vai nel cimitero di Capalbio c'è ancora la colonna e sotto c'è scritto e su questa colonna ci fu questa scritta è stata messa dopo il film perché è stato il film a ridare dignità al personaggio e a ridare forza anche poi è nato il museo Tiburzi dopo il film è successo di tutto e di più su Tiburzi capito è il film che l'ha dato dignità culturale storica eccetera per cui nella colonna adesso c'è un cartello che ho scritto in questa colonna fu legato a Tiburzi e fotografato ma le ossa sono rimaste lì tra il cancello e la porta questo io non te lo so dire infatti l'ho cercato anche io non ho mai capito se questa cosa è una leggenda se è vero se non è vero basta scadare sì ma il cimitero è stato anche ampliato l'hanno ingrandito per cui non si sa più dov'è all'inizio comunque c'è un po' di confusione su questa storia di ossa io non sono andato a cercare i ossa io so che il teschio è stato portato a come si chiamava lo scienziato che si occupava dall'ombroso l'ha avuto l'ombroso che ha analizzato quello che rimaneva del cervello perché era stato era metà cervello praticamente non so che studi so che c'era una relazione ma a me non mi interessava quella qualcosa e poi del teschio per i necrofidi non so non so che fino aveva fatto mi pare che fosse lì nel museo dei carabinieri dell'arma dei carabinieri mi pare ma non credo perché no perché questa storia della mancata cioè la presenza di un teschio a cui è stato sparato nella testa evidentemente non faceva buon gioco rispetto all'ambiguità su quella morte che loro volevano mantenere comunque io non ho mai visto nessun teschio ecco veniamo alla produzione come sei riuscito a metterlo in piedi dunque fu un mio carissimo amico che si chiama maerzo Cicchino quale mi disse perché non proponi alla produzione al larger film di produrtelo visto che te sei figlio di Mario amico di italiani e io mi disse ma proviamo sono andato a bussare al larger film dalla nostra amica Grazia Volpi e gli ho proposto la cosa e Grazia Volpi non mi ricordo come andò esattamente so che un giorno siamo andati insieme in Rai lei doveva incontrare qualcuno insomma ci siamo cominciati a frequentare Grazia Volpi lei voleva capire cosa volevo fare insomma io sono stato a casa sua anche ospite a casa sua è successo che contemporaneamente Marco Muller che era l'ex direttore del Festival di Locarno che era diventato però nel frattempo direttore del Festival di Venezia aveva detto a un dirigente di Rai 2 guarda Paolo Benvenuti sta per fare un film su Tiburzi perché io con lui con Marco ci avevo parlato devo raccontare questa storia io lo prendo a scatola chiusa per il Festival di Venezia questo direttore di Rai 2 subito disse Dio ma che è sto Paolo Benvenuti ma si denomina e qualcuno gli disse ma l'ho visto Paolo Benvenuti insieme a Grazia Volpi ieri in Rai eccetera per cui lui ha telefonato il direttore a Grazia Volpi gli ha detto stai producendo il film a lei ancora non aveva deciso di prenderlo ma sentendo sta telefonata del direttore di Rai 2 che gli telefona e dice ma te sta per produrre il film di Paolo Benvenuti e lei subito si si certo sono qui che sto preparando capito e le corsa subito a dire e le ha chiesto subito una bella fetta di soldi alla Rai per produrre il film quindi è nato il progetto per cui il film TV si è stato prodotto al 50% da Grazia Volpi e al 50% dagli arsenali medicei che era la mia casa di produzione che avevo fondato io quindi il film è partito e si è fatto fine della storia non ci ho guardato niente assolutamente niente e il film era poi poi è andato a Venezia il film è andato a Venezia rispetta il film TV si è andato si no 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 mi sono sbagliato scusa ho detto una stupidaggia non era il direttore del Festival di Venezia era il direttore sempre del Festival di Locarno ha detto che avrebbe preso il film a scatola chiusa per il Festival di Locarno perché aveva già vinto qualche anno prima aveva vinto aveva vinto Confortorio il premio il premio dei dei giovani e poi aveva vinto Costanza no Costanza è arrivata dopo poi insomma comunque aveva detto a questo dirigente della Rai che lui aveva preso il film a scatola chiusa ecco perché la Rai si è buttata sul film e col fatto che il direttore del Festival di Locarno è andato a Locarno il film è andato a Locarno non ha vinto nulla ma insomma fu presentato a Locarno fu presentato a Locarno a Locarno mi portai dietro anche i due storici questi qua che avevano collaborato con me nella ricerca d'archivio e niente è stato visto non è stato molto ecco questo lo devo dire Tiburzi è il film che io amo di più dei miei perché il figlio come si dice un figlio che è venuto un po' non come gli altri sono belli sono affascinanti Tiburzi è il figlio minore come si dice figlio di un dio minore ecco e io invece lo amo molto perché perché per la prima volta mi sono sentito Rosselliniano in questo senso sai che Rossellini non girava non scriveva sceneggiature non andava a braccio e Tiburzi l'ho girato alla Rossellini cioè confortorio che tutti hanno portato un palmo di mano bellissimo film in realtà è un film facile io ho disegnato magari un giorno te la farò vedere tutte le inquadrature del film cioè non solo ho scritto la sceneggiatura ma ho disegnato non solo il disegno delle singole inquadrature ma anche il chiaroscuro cioè lo studio delle luci dell'ombre come volevo cioè attualmente tutto io l'ho girato a occhi chiusi confortorio perché era tutto stabilito tutto chiaro addirittura le giornate di lavoro avevo costruito un piano di lavorazione dove tutte le scene che si svolgevano in quella stanza l'ho girato tutte insieme che poi non montate capito per cui era l'ho girato quattro settimane proprio niente un film così girato tutto facile Tiburzi no Tiburzi dove il 90% del film è girato all'aperto all'esterno sono esterni in febbraio sì io ricordo anche dei posti accidentati poi porca mie grotte canyon boschi e se pioveva e se non pioveva e cosa succede perché in una sceneggiatura era prevista la pioggia ma la pioggia doveva succedere in quel giorno in quel momento lì non quando ripareva a lei per cui io andavo nei posti e una volta aspetta avevo fatto i sopralloghi a ottobre e ho girato a febbraio era cambiato tutto a ottobre avevo un'esplosione di colori rossi marroni eccetera dopo era tutto giallo verde era un altro mondo per cui dovevo arrivare lì con un soprallogo fatto quattro mesi prima inventare il film da girare dove lo metto gli attori come li metto è tutto cambiato la luce qui l'alberi erano tutti scheletrici mentre prima erano tutti pieni di fronte l'ombra qui c'era l'ombra qui c'era l'ombra qui c'era la luce per cui Tiburzi è un film che ho dovuto improvvisare tutte le inquadrature di Tiburzi sono improvvisate quindi si sente molto il documentario esatto ma perché Tiburzi per me era la natura Tiburzi era la grotta era l'albero era la natura era la roccia era questa Tiburzi per me non era il personaggio era la maremma Tiburzi era la maremma e io filmando la maremma ho filmato Tiburzi ecco perché la prima parte del film è un film sulla natura perché la natura per me era Tiburzi Tiburzi era la natura non solo ma Tiburzi aveva una sua filosofia che ho capito leggendo le cose che lui ha lasciato scritte perché Tiburzi aveva fatto una cosa geniale Tiburzi che non riuscivano a beccarlo a un certo punto decide di farci arrestare si fa arrestare lo mettono in galera sta tre anni in galera e poi evade perché fa questi tre anni di galera che poteva benissimo non fare perché aveva saputo che in galera insegnavano a leggere a scrivere e lui si è fatto mettere in galera per imparare a leggere e a scrivere quando ha imparato a leggere e a scrivere se n'è andato è vaso hai capito questo era Tiburzi tanto per far capire chi era il personaggio quindi ha lasciato delle cose scritte ha lasciato delle poesie addirittura per cui questa cultura della poesia estemporanea questa cosa che io conoscevo per immagini muti l'ho ritrovata tranquillamente lì tant'è vero che lì ho trovato un poeta estemporaneo che è nella figura del carbonaio che canta un pezzo a presa di culo dei carabinieri su Tiburzi ecco ed è un canto in ottavarima tipico del mondo popolare contadino toscano toscano e toscano e maremano quindi questa lui ha scritto una poesia sull'orologio non l'ha scritta lui in realtà quella è una poesia famosissima molto amata dai poeti perché era sempre con la struttura poetica tipica dell'ottavarima e nobile ordigno di dentate rote misura poi non mi ricordo insomma comunque era nobile ordigno di dentate rote e'ndecasillabo e l'endecasillabo è il punto di partenza della poesia in ottavarima dei contadini toscani maremmani quindi questo questo aspetto culturale per me era importantissimo e dovevo in qualche modo rappresentarlo la cultura di Tiburzi però non era una cultura come intendiamo noi oggi ma aveva una radice antichissima Tiburzi era un etrusco non era un uomo dell'ottocento era un uomo legato alla cultura etrusca e lui il suo senso di giustizia considerava i signori i padroni della terra come dei e i contadini come uomini lui si mette nel mezzo diventa Eracle cioè il semidio che crea una situazione di equilibrio tra gli dei e gli uomini questo era Tiburzi questa era la filosofia politica di Tiburzi il concetto di anarchia socialismo niente di tutto questo c'era nella mente di Tiburzi i suoi valori culturali erano questi quindi il suo senso di giustizia era questo lui non diceva che i proprietari tereri erano dei pezzi di merda che andavano abbattuti come dicevano gli anarchici o i socialisti lui considerava naturale che esistessero i padroni della terra come appunto come se fossero dei ma anche li vedeva come dei perché erano sempre in queste build in questi palazzi per cui era come se fosse una sorta di Olimpo e contadini invece nelle catapecchie eccetera lui si è posto al centro vivendo in qualche modo alla macchia come un dio pagano e con la funzione di creare un equilibrio tra questi due mondi quello dei dei quello degli uomini da un punto di vista distributivo di contatto col pubblico che sorte ha avuto il film nessuna come gli altri ma è andato in onda in Rai mi pare di scena una volta mi pare mi ha fatto un passaggio ma mi sai quelle cose a un'ora assurda lo ha riproiettato Ghezzi quando ha fatto tutta la serie dei miei film lo ha riproiettato Ghezzi ma anche quello non ha avuto è stato visto molto in Maremma in Maremma hanno ho detto è stato proiettato più volte in pellicola e poi hanno avuto il dvd per cui hanno fatto le copie del dvd l'hanno distribuito cioè io ho lasciato allora lasciai mi pare una trentina di dvd al comune di Capabio che poi furono distribuiti le varie biblioteche cioè che da lì è rinato il mito di Tiburzi per cui sono andato al museo Tiburzi a Cellere che era la città natale di Tiburzi insomma sono successe diverse cose dopo diciamo che tanto per dargli un giudizio definitivo è un film che è servito a far rinascere il mito di un territorio esatto esattamente infatti una presa di coscienza da parte dei cittadini del territorio Maremmano soprattutto dell'Alto Lazio che la loro cultura era un valore tant'e meno è arrivato un regista che aveva ridato vita a questo personaggio e l'aveva come dire trattato rispettandolo ridandoli tutta la sua dignità che meritava rispettandolo rispettandolo grazie a tutti Grazie a tutti.